Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul canale di Jored. Prima di proseguire con il video vi invito se vi va, di mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti. Iniziamo. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello è stato aperto un nuovo televoto per scegliere il primo nome per il prossimo televoto con eliminazione. Sette i concorrenti. Federico, Gressia, Marco, Alessio, Massimiliano, Paolo e Simona. Nell'ultimo video sondaggi avevamo visto che Simona era la più votata mentre Alessio il meno votato, quindi a rischio. Oggi vediamo se è cambiato qualcosa. Rimane Simona la preferita, mentre il meno votato secondo i sondaggi è Gressia. E voi, chi state votando? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio, alla prossima news.